Ci dice che praticamente i cittadini napoletani hanno dato al Movimento 5 Stelle una particolare fiducia. Questa fiducia noi la dobbiamo ancora conquistare. In che modo si può conquistare la sua e la sua fiducia napoletana? Cercando di... loro che cosa vogliono fare? Cercando di andare ancora a tutti. Perché io sono strano di farlo. L'opposizione è importante, però la cosa più importante è quella di andare a governare un'istituzione. Perché in base al governo i cittadini possono avere risconto che noi abbiamo.